ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi ho per voi un unboxing di un pacco che mi è arrivato ieri che stavo aspettando da un pochettino di tempo devo dire e andiamo subito a vedere di cosa si tratta questo non è un video sponsorizzato mi hanno inviato i prodotti li ho comprati con i miei soldi e stai curiosi? mi piace molto di bello e stappi in fatto così mi puoi passare sui perdone allora prendolo cerco di fare il meno casino possibile troviamo questo adesso ve lo inquadro bene a prenderlo troviamo questo se qualcuno è esperto di make up e skin che è molto appassionato magari riconoscerà questo simbolo comunque vi faccio leggere vedere anche com'è com'è qui c'è scritto charlotte tilbury charlotte tilbury infatti ho fatto un ordine su questo sito approfittando degli scordi che c'erano appunto non c'era occasione di cose esattamente adesso ci liberiamo provo a liberarmi della cattola e torno subito allora ammetto di aver già aperto questo placchetto perché ero troppo curiosa e poi vedendo com'era bello com'era com'era bello anche il suono di di questa carta ho deciso di reincartare tutto e farci un video quindi in realtà era un pochino più ordinato il pacco e soprattutto penso che non mi ricordo se ci fosse prima il pacco così ho prima una lettera non ne sono sicura comunque guardiamoli un pochino sono di questa carta che devo dire potrei anche non buttare perché è veramente un bel suono la devo buttare ora tengo per il canale so so è allora togliamo l'attesivo che in questo caso ho già un po' tolto ho già un po' tolto ieri ok allora ho voluto mettere la carta viola anche sotto perchè era troppo bello il effetto con le luci che si intravedono un pochino mi piaceva tanto ok allora come prima cosa troviamo questa lettera che non ho ancora aperto penso sia semplicemente quei ringraziamenti dagli aziende per aver fatto l'avvisto oppure la ricevuta non saprei guardate che bella però si vede che insomma è un brand del luxury molto bello infatti mi dispiace poi dover buttare tutto perchè è veramente bello ho chiuso molto bene questa lettera ho fatto un po' fatica da prima e dentro c'è sì la ricevuta semplicemente è bellissima la lettera così guardate ok passiamo agli acquisti io ho acquistato la crema occhi la crema viso i detergenti e il siro c'era un bundle per questi 4 prodotti col 20% invece questo l'ho pagato a prezzo pieno perchè ero troppo curiosa di provarlo ho fatto una pazzia non ho problemi a dirlo però non so mi piaceva veramente era veramente curiosissima da cosa da cosa da cosa da cosa da cosa partiamo dalla crema viso guardate che bello il pack praticamente si apre è a poco speriamo si apre così cioè questa veramente mi dispiace buttare il pack capito cioè quanto è bello e poi qui si apre in questo modo e questa è la crema in realtà questa è plastica dura non è vetro ma mi vedete cioè vi vedete qui vedete subito da quel che so Charlotte Tilbury comunque fa molti prodotti anche pensati per i makeup artist sempre da quelli che sono i makeup artist preferisco non tenere nulla di vetro che è più pesante si rompe eccetera quindi comunque il pack c'è è bellissimo e cioè bellissimo ve lo faccio vedere un po' meglio un po' meglio questa ha 50ml come tutte le creme ed è la Charlotte's Magic Cream Instant Turnaround Moisturizer con fps 15 testato termologicamente testato e all'interno ha la linguetta non vi faccio non vi faccio non apro la crema perché mi sono ripromessa di aprirle solo quando effettivamente avrei finito i prodotti che sto usando quindi riterrò riterrò da parte in attesa di poterli finalmente usare però guardate c'è è bellissimo veramente il pack andiamo ad aprire adesso il contorno occhi ve lo faccio vedere un po' meglio anche il pack di questo è meraviglioso guardate qua anche se va a ridere perché vedete la crema finisce tipo qui e questo poi è tutto pack però c'è quanto quanto è luxury quanto è bella e questa è Magic High Rescue High Cream to help brighten and reduce the appearance of wrinkles allora c'è da dire questi sono 15 ml tutte le creme le creme occhi che io conosca anche qui abbiamo la linguetta questa so che probabilmente non è stato un acquisto e azzeccatissimo nel senso che è una crema più che altro anti età quindi sarà molto 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 corposa penso la userò più che altro come maschera però ho voluto anche prendere diciamo questo brand perché mi piaceva tantissimo il pack e dopo una cosa che io faccio spesso è prendere altre creme di altri brand e metterle in dei pack che mi piacciono quindi tutte le prossime creme contorno occhi che possederò saranno tutte messe qui dentro quindi perché mi piace tantissimo e troppo sia un peccato buttarne la crema cioè tutto non si butta non si butta ok passiamo al goddess queens in vitro questo Questa è una coppia di detergenti viso fatta per essere usati insieme, tra l'altro è venuto più buio perché si sta chiudendo una finestra a su ora, vabbè, quindi guardiamo cosa c'è qui dentro. Io ovviamente sono da conoscere, uno e tre. Allora questo penso sia un panno per asciugarsi il viso, devo leggere. E qui abbiamo appunto i due detergenti, come vedete sempre il pack. Con il taglio oro rosa. Penso questo sia quello purificante, tipo al carbone nero e questo non ho idea cosa sia. Che noia non averne unghie. Io faccio vedere più da vicino i dettagli, vedete? Qui andrebbero tenuti così. Vedete qui ci sono le due metà del viso, penso, non sia fatta apposta. E sono molto belli anche questi. Non mi troverò di provarli e davvero voglio provare tutto insieme per vedere se effettivamente cambia qualcosa, perché questi prodotti sono pensati per essere utilizzati tutti insieme, quindi voglio davvero vedere se noterò qualcosa. Infine abbiamo l'elixir, il serum. Charlotte's Magic Serum Crystal Elixir. Anche questo secondo me è consigliato anche per pelli più mature, ma in realtà secondo me va bene un po' per tutti. Dovrebbe far proprio risplendere la tua pelle, ringiovanirla. Comunque anche avendo 26 anni la mia pelle non è più quella di quando avevo 13 anni, quindi io sono convinta che per quanto riguarda i lantici, eccetera, meglio prevenire che curare. E guardate che bello, tra l'altro effettivamente la pubblicità su YouTube ha funzionato per chi l'ho presa perché mi veniva in continuazione. Faccio del pack più da vicino. Magic Serum. E aprendolo Giochiamo appunto il pack primario. Devo dire che sembra grosso comunque. Qui non lo apro perché non so se ci sia qualcosa che... Come il linguette qui ad esempio, quindi preferisco appunto non aprirlo. Anche se sono in realtà questo serum mi sarebbe rapido subito perché non ho un serum ora. Mi è finito, ma voglio provare tutto insieme, quindi aspetterò... Secondo me dovrò aspettare circa un mesetto fra una volta e l'altra. Faccio un po' di tapping. Ah, è qui. Non so se lo vediate. Ma c'è... Sembra un fiore. C'è questa zigrenatura di vetro. Questo invece è vetro. E guardate com'è bello. Troppo bello. Anche se il mio pack preferito è... Il contorno qui è troppo lanciare, è bellissimo. Infine... Abbiamo i due campioncini... Che ho scelto io. Questi sono i suoi rossetti... E' matte. Ecco le qua. Questa sono molto 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 curiosa di provarli perché... Magari troverò un nude che mi piace molto. Chi lo sa. Comunque trovo molto intelligente il fatto di... Averli tutti qui. E mi piacerebbe che li tesserò più spesso anche tipo da Sephora così perché... E' veramente utile provarseli. Perché poi una volta che si è in negozio... Io non ho mai provato il... Il tester. Mai. Non mi sembra, non so, igienico. E non sai mai come ti starà sulle labbra. A me ispira sia questo qui, super chiaro. Beach Perfect. Sia... Bond Girl. Il piloto che è famosissimo. Non so. Anche questo Red Carpet. Vedremo, vedremo, vedremo. E infine ho... L'ultimo tester. Che è semplicemente il tester del... Penso sia un... Balsamo Rappra. Semplicemente. Per quanto io sia fissata con i balsami labbra. L'avrei anche preso, però ne veramente troppi. Quindi... Eccoci qua. Mi piace veramente tanto l'effetto delle stelline. Ehm... Così. Molto, molto. Bene. E io spero... Davvero... Che questo... Unboxing vi sia piaciuto. Vi abbia pensato... E vi abbia incuriositi. E vi abbia incuriositi. Incuriositi. Ditemi, ciò nei commenti, se vorreste una skin care con questi prodotti, quando inizierò a usarli. Io penso, la farò comunque, perché sapete che mi piacciono molto i video di skin care. Quindi, io penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio, penso proprio. si è aggiunta l'ora di abbassar le luci e augurarvi una buona notte buona notte sognito oro buona notte sognito oro buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte o un bacione che le spera